Ah, ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, siete oggi ancora sul canale di Pringiluka Tech Ragazzi, oggi parliamo di macchine fotografiche Questo è un ambito che mi ha sempre appassionato, mi ha sempre affascinato Ma prima di iniziare questo video io devo assolutamente scusarmi con voi Perché ultimamente non sono molto presente e costante qui sul mio canale YouTube Questo è dovuto purtroppo all'università e a tutti i corsi e gli esami che sto preparando E quindi ragazzi non posso far altro che chiedervi scusa Ma vi prometto di essere un po' più costante magari Direi di partire però a parlare di queste macchine fotografiche subito dopo la sigla Ed eccoci qui ragazzi, non so se l'avete notato ma ho cambiato il colore della intro Spero che vi piaccia, il nero lo vedo un po' più abbinato al genere di video che porto sul mio canale E soprattutto voi ben sapete se mi seguite da un po' che io il nero lo amo assolutamente Ma direi di partire con la storia della mia fotografia Beh, io sono sempre stato un appassionato di fotografie Sì da quando ero bambino, tant'è che mio nonno mi ha sempre trasferito questa passione E sono partito a scattare con le classiche macchine analogiche Voi direte ma quanti anni hai? Non sono molto grande Ma ho cominciato a scattare con lei Questa è una Zenith 3Z qualcosa E ragazzi è davvero fantastica Funziona ancora perfettamente Magari faccio qualche foto Senti te? Eh sì ragazzi Il suono di queste macchine fotografiche è davvero qualcosa di straordinario A me piacciono tantissimo E spero un giorno di riuscire a ritrovare i rullini Magari se qualcuno di voi ne conosce qualcuno me lo linkasse qui sotto in descrizione Questa è una macchina fotografica che mi ha accompagnato per tanti anni Stavo cercando di togliere il guscio ma assolutamente non ci riesco Dovrò provare con qualche pinza Ma ragazzi obiettivo intercambiabile Quindi potevo tranquillamente utilizzare tutti gli obiettivi Ne ho un paio giù da me Questa è un obiettivo standard da vite Che ragazzi è qualcosa davvero di storico e affascinante A me piace davvero tantissimo questo tipo di fotografia Dopo il corpo macchina che vi ho fatto vedere pochi secondi fa Mio nonno mi regalò la Supercolor Questa è una Polaroid Supercolor 1000 E ragazzi ha una storia davvero infinita Mi piace tantissimo fare le fotografie istantanee Infatti molto presto sul canale aggiungerò una bella Polaroid Ovvero una bella fotocamera istantanea Non quella della Polaroid Che ragazzi mi piace un sacco Questa inoltre funziona ancora perfettamente Scatta e quindi assolutamente se mai riuscisse a ritrovare le cartucce O qualche azienda decidesse di creare cartucce per questa macchina fotografica Oppure se voi ne conoscete qualcuna Linkatemela qui sotto Perché assolutamente mi piacerebbe tornare a scattare con questo genere di macchine fotografiche E insomma ragazzi questa accoppiata assolutamente è favolosa Andando avanti la tecnologia è cresciuta E andata avanti e beh ragazzi siamo passati alle fotocamere digitali Beh per me ci sono dei punti a favore della fotografia digitale e dei punti a sfavore Ovvero che la fotografia analogica beh uno la desiderava prima di guardare una delle fotografie Ed era una cosa davvero fantastica Per quanto riguarda la digitale invece siamo lì a scattare per ore e ore Magari non ci andremo mai a riguardare tutte le singole fotografie Ma ne sceglieremo giusto a qualcuna Invece lì era proprio una storia mettersi lì Dedicarsi del tempo a preparare il set e a scattare la fotografia Che era tutta un'altra storia Beh quella era magia Adesso si tratta di semplice click click Quindi ragazzi da un lato ci sono dei punti a favore Dei punti a sfavore Perché per la digitale ce l'abbiamo sempre lì pronta e assolutamente a portata di mano Tornando a parlare di questa macchinetta Beh questa è stata la mia prima macchinetta digitale E ragazzi aveva tantissimi punti a favore Ma uno solo a sfavore Ovvero che andava a batterie Beh si risucchiava totalmente le batterie in pochissimo tempo A meno che non si utilizzavano delle batterie ricaricabili Che però si andavano a rompere dopo pochissimo tempo Beh ragazzi assolutamente il tallone di Achille Di questa macchinetta erano le batterie Ma per quanto riguarda le fotografie e i video Faceva davvero delle bellissime cose E anzi mi sta venendo un'idea in mente Ma mi sa che non sono human sapare Non riuscirò mai a ricreare un video come i suoi Quindi lasciamo perdere Questa faceva davvero delle bellissime foto E degli ottimi video Poi pian piano anche la tecnologia digitale è cresciuta E siamo passati a delle reflex Che facevano delle foto davvero straordinarie Purtroppo non ce l'ho più qui Perché l'ho venduta alla mia Canon Neos 1100D Che ragazzi era davvero una macchinetta fotografica Perfetta per fare le foto dei paesaggi E qualsiasi altra cosa del genere Ma purtroppo l'ho dovuta vendere Per passare a qualcosa di più interessante Prima di tutto il mio drone lì dietro Che assolutamente si può definire un corpo macchina E poi ragazzi Beh Vedete lo scatolo lì dietro E spero che qualcuno di voi Già abbia capito Ma stiamo parlando Della nuovissima E bellissima Sony Alpha 5100 E ragazzi È qualcosa di straordinario Parliamone più nel dettaglio Venduta la mia Canon 1100D Avevo assolutamente il bisogno Di prendere una mirrorless Una macchinetta Compatta Da mettere sempre in tasca E da portarsi sempre in giro Ma che assolutamente Non mi togliesse la possibilità Di cambiare l'obiettivo E quindi ho scelto questa mirrorless Di casa Sony Una 5100 Che ragazzi Mi dà la possibilità Di cambiare l'obiettivo E scegliere quello che io più desidero E soprattutto Di flippare lo schermo Quindi anche in questo caso Che non mi sto guardando Perché sto registrando Con il mio iPhone X Beh Con questa potrei farlo tranquillamente Quindi ragazzi Davvero Un cavallo Di battaglia E questa spero Che mi accompagnerà Davvero per tantissimi anni È una macchinetta fotografica Che mi è arrivata da poco Ovvero Proprio stamattina E quindi Non volevo fare Un classico unboxing Perché Oltretutto Non ho avuto Proprio Pazienza Di aspettare Per aprirla Qui con voi Ma assolutamente È una macchinetta Perfetta L'ho presa nuova E ragazzi L'ho pagata davvero pochissimo Per quello che è Fondamentalmente Fa il 1080p A 60fps Che è qualcosa Davvero di straordinario Ma direi di metterlo alla prova Facciamo così Stacco l'iPhone Monto la Sony E ci vediamo tra poco Ah Ed eccoci qui ragazzi Beh A me Piace Devo ancora settare Qualche impostazione Perché vedo un po' Troppo scuro Beh in questo momento Sono spenti anche i led Perché ho un problema Di connessione Quindi con le Philips Hue Non si può fare Senza internet È una cosa davvero Oscena Ma lasciamo perdere Torniamo a parlare Di questo bel gioiellino Beh È una Sony Alpha 5100 Come vi dicevo prima Con sensore APS-C Quindi davvero Un sensore gigantesco Così non è un micro Quattrotessimo È un APS-C Davvero gigantesco E spero che vi piaccia Beh ragazzi Io con questa macchina fotografica Credo di fare davvero Dei video interessanti Da portare qui nel futuro Sul mio canale Infatti questo è proprio stato Un investimento A crescere Perché sto progettando E lavorando A dei video futuri Che ragazzi Saranno davvero Straordinari Cambierò totalmente Il format Del mio canale Ma non abbandonerò mai Quello della tecnologia Voglio continuare a parlarvi Un po' Della fotografia Perché mi sto appassionando Sempre di più E voglio Parlarvi Ancora di più Per quanto riguarda Magari Obiettivi Tecniche di video making E quant'altro Spero che queste cose vi piacciono E se è stato così Lasciatemi un bel commento qui sotto E fatemi sapere Cosa ne pensate Di questa Sony Alpha 5100 A proposito Fatemi sapere Cosa ne pensate Dell'audio interno E in questo momento Sto registrando anche Con il mio Shure Il mio classico Lavalier esterno Perché Per sicurezza No? È la mia prima test video Quindi assolutamente Ho voluto farlo con entrambi Vi lascio Ora sono con la Sony Ora sono con lo Shure Ditemi quale è meglio Ragazzi Io vi saluto però E vi dico che Se questo video vi è piaciuto Lasciate un bel like qui sotto Iscrivetevi al canale Perché In futuro Ci saranno davvero Tantissime cose Qui sul mio canale YouTube E vi dico Che noi ci vediamo Domenica prossima Sempre qui Sul mio canale YouTube Ciao 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 ciao